non è possibile non è possibile olsen pezzo di merda massara davide massara siete due pezzi di merda avete rotto il cavolo massara sempre contro di noi una volta c'è da un gol c'ha nulla un gol in fuorigioco una volta che non è non c'è sta una volta c'è da un ricorre contro dal bar e mo oggi comprometto la partita c'ha nulla il gol che e non solo non è solamente il gol che ci ha annullato perché quello ci può pure sta c'è stata un po' nana ma non ci ha fissiato un fallo a favore tutto contro tutto olsen spreca a dio che non te vedo te sotterro vivo olsen pezzo di merda svedese pezzo di merda contro te noi doveva fare i miracoli questo si doveva svegliare sto paperone sto portiere scarso perché olsen è scarso si è visto a roma fa due tre parate qua nazionale e ha finito come portiere cioè nel senso è discreto però oggi è diventato neuer oggi contro noi olsen diventa neuer parlando della roma comunque ciao ragazzi un minuto ancora non v'ho salutato bentonati in questo nuovo video qui a giapiaz oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video siamo appunto qui nel appunto del portale del giapiaz commentare che porterò il post partita della mia roma ovviamente video sfogo non ce l'ho tanta non ce l'ho tanto con i miei con i miei giocatori perché la roma si non ha fatto una partita eccelsa però secondo me ha giocato molto bene cioè il primo tempo non è piaciuta tanto la partita della roma ma al secondo tempo la roma si è vista in campo se non fosse stato per un olsen che parava tutto e di più io non lo so comunque kalinic pure porca miseria da te una svegliata che poi aveva pure segnato kalinic aveva segnato kalinic non ci credevo sono saltato dal letto quando ho visto kalinic che segnava ho fatto non so un palto due metri non ci credevo manco io ha segnato kalinic invece no è massa devono andare a vedere il bar perché non è possibile che segna kalinic ha dato il fallo su pisacane che poraccia seppure momenti se crepa pisacane con l'uscita a farfalle di olsen la colpa capito che se se muore se sta crepa pisacane ma la colpa è di kalinic che neanche l'ha toccato è stato olsen che l'ha travolto nell'uscita non era tanto colpa di kalinic però vabbè c'è può sta però c'è tutta la partita un fallo a favore ma ce lo vuoi fissiare cazzarola zagnolo non gli ha fissiato un fallo contro zagnolo che come al solito deve fare sempre tutto lui che come al solito senza zagnolo non c'è non c'è movimento nella roma purtroppo purtroppo ma colpa non è tanto colpa di chi ha giocato ma è colpa degli infortuni ragazzi ci sono rotti tutti non è possibile ce vado io a giocare è partito pure il crociato di diavrà che con tutto rispetto non è che mi piaccia tanto diavrà a me però era comunque un giocatore che poteva poteva essere utile alla causa perché comunque è un centrocampista difensivo che poteva comunque essere utile per sicuramente non si sa la gravità dell'infortunio penso che sia un crociato che sia partito come se è infortunato pure zappa cosa si è rotto il crociato c'è sta niente da fare noi siamo maledetti c'è la maledizione dei tersini che si scocciano tutti gli anni i tersini ma non solo pellegrini infortunato fuori due mesi miglietari hanno fuori tre settimane quell'altro perotti è andato sotto terra non si sa quando ritorna un der pure non si sa quando torna tutti rotti tutti rotti cioè io non è possibile così non ci arriva a fine anno non ci arrivo porca di quella zozza non ci arriva a fine anno neanche mi posso lamenta tanto con la roma oggi perché si diciamo ha fatto una partita non una buona partita ma neanche una partita brutta c'è una partita discreta diciamo che a livello di azioni forse la roma ha fatto un po più di azioni meritava forse un po più la vittoria ovviamente la roma il primo tempo forse il caglia ci ha dato un po di difficoltà perché comunque il caglia è sempre una buona squadra giopetro simeone nainggolan olsen e li mortacci tu un'altra volta è diventato neuer neuer è diventato neuer neuer mannaggia a te tutta la svezia non ce l'ho con i svedesi ma ce l'ho con lui in particolare ce l'ho porca misera se eri del burundi era uguale cioè veramente cioè che poi questo secondo me si era già preparato psicologicamente apposta veni a roma e parate tutto pure le smadonne ha parato pure le smadonne mannaggia a lui oggi gli ho tirati i peggio insulti ma non non ce l'ho tanto col col lui ma ce l'ho perché contro de noi deve fare miracoli contro de noi è quello che mi ha fatto incazzare è quello perché alla fine è un bravo ragazzo diciamo tra virgolette però fai pezzo di merda contro de noi fa pari tutto e perché non poteva essere col senno dello scorso anno un portiere normale che ogni tanto fai qualche papera no contro se lo vedete fai miracoli detto ciò mi raccomando cliccate tanti 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 mi piace vi siete visti la partita se è così fatemelo sapere con un bel commento se siete nuovi ragazzi iscrivetevi e azionate la campanellina ragazzi se vi siete persi gli ultimi video ve li lascio qua sopra nelle schede andatela a recuperare tanta tanta roba in settimana usciranno torneranno alcune nuove serie quindi riporterò forse la serie delle 24 ore quindi azionate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e ovviamente se venitemi a seguire anche su instagram in particolare e sugli altri social che vi tengo aggiornati su ogni volta vedo anche delle anticipazioni sui social su instagram alcuni sondaggi eccetera eccetera quindi venitemi a seguire soprattutto su instagram giapio se passate negli altri link niente raga io detto ciò sto a sudare non fa caldo ma sto sudando sono rosso come un peperone mi fanno sfogare mi fa sfogare olsen detto ciò se vi è piaciuta la partita se vi è piaciuto fatelo per me lasciate un bel mi piace e niente raga iscrivetevi e sempre e comunque forza roma sempre e comunque sempre forza roma vamos grazie